Una brutta compagnia! Uga, Uga, Labba, Rabba! Che cosa ha detto, babba? Uga, Uga, Labba, Rabba! Questa lo so anch'io! Ma che cosa significa? Beh, è sulla scia dell'evoluzione. Lei è più vicino a loro due. Me lo dica? Uffa, il nostro babba avrebbe preso abbastonate questi signori! Proprio come pensavo. A giudicare dalla loro architettura e dal tipo di armi, gli antichi Tenkas erano dei geni scientifici che hanno usato la loro tecnologia avanzata per costruire questa incredibile città. Beh, i loro discendenti non mi sembrano tanto svegli.